biologiche cioè come mai ancora visto le nuove tecniche non hanno voluto trovare nulla hanno fatto finta di nulla oppure è ben conservata così a prendere un po di polvere giusto per la tenda di scoperti era l'unica chance secondo me di trovare un dna ipotetico dell'assassino e lo dissi in trasmissione televisiva di 3 4 anni fa e cosa abbiano fatto non lo so so che ci hanno lavorato sopra perché un genetista ci ha lavorato sopra del careggi cosa abbiano trovato non lo so evidentemente nulla perché se no ormai sono passati tre quattro anni avrebbero sicura bisogna vedere cosa hanno cercato se tu mi vai a cercare perché comunque rimani ancorato a quei vecchi colpevoli e mi vai a cercare il dna di pacciani vanni o lotti e non lo trovi chiudi la tenda e la rimetti in archivio credo che sia un lavoro forse inutile e non so cosa abbiano fatto sinceramente non so cosa abbiano fatto e non so perché chi è vicino ai vecchi investigatori che attualmente tratta la giudiziaria non gliel'abbia chiesto sinceramente quindi non so darti una risposta soddisfacente per la privacy il cognome non si può dire si può dire che quel periodo villa castelletti nel 68 era un orfanotrofio ed era anche abitata da una famiglia però non posso ovviamente fare nomi ecco è il luogo del primo omicidio quello del 68 assigna ottima domanda mi ha chiesto la persona la pista dei soldi di pacciani sul controcorrente pacciani vennero trovati dei buoni postali l'automobile ford che ha pagato tipo 4 milioni una casa che aveva comprato nell'84 che era un rudere e ha rimesso a posto e ha rivenduto parte di essa gli furono trovati nel 1986 cioè anno della fine dei delitti 80 milioni di lire che possono essere comparati ai stando larghi 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 il patrimonio 100 mila euro attuali ok e nel 92 quando pacciani va a processo quei soldi li erano reinvestiti in buoni postali i buoni postali all'epoca raddoppiavano dopo sette anni e quindi arriviamo ai 152 milioni del 92 ora pacciani nel 86 con 80 milioni indubbiamente è una bella cifretta però non mi sento di dire che è una cifra da super killer diciamo che era un personaggio molto risparmioso aveva avuto delle non cause del lavoro comunque delle buone uscite sul lavoro aveva avuto un infarto mentre lavorava quindi è una cifra che non dico possa essere compatibile poi se pacciani facesse attività in nero o comunque attività di frodo non devono e non possono essere per forza riconducibili a un ipotetico mandante che lo pagava questo non possiamo dirlo però non possiamo prendere questo come dato opprova quello che posso dire che in un libro di un ex investigatore poi scrittore viene indicato che questi versamenti venivano fatte nelle date degli omicidi io vi rivelo quant'è la somma dei versamenti si tratta di due trecentomila lire quindi un delitto che veniva pagato due trecentomila lire all'epoca cinquecentomila lire questi erano i versamenti di pacciani un milione di lire cioè al limite si può ipotizzare tutto però sì però voglio dire poi per carità ognuno sì sì però voglio dire la moglie ha una piccola pensioncina la figlia un piccolo lavoro lui faceva dei lavori in nero eccetera eccetera insomma non può essere un indicatore in maniera assoluta poi generalmente questo tipo di non è il furto d'opera d'arte che io delego a lei e poi la pago perché lei lo fa al posto mio quella è una pulsione quel tipo di delitti lì ci sono delle tracce sui corpi abbastanza evidenti segno di una patologia poteva conoscere e dare delle indicazioni dice lei questo può valere su pacciani come può valere su tantissime altre persone cioè a livello probatorio serve qualcosa di mi interessa ecco questo aspetto mi ha stimolato un fatto anche quello del signore appunto che ha chiesto potrebbero essere potrebbe essere un indicatore però immagino mi permetto di diciamo di prendere partita dal suo spunto un indicatore perché diciamo così che pacciani non è uno stinco di santo dice allora se non è uno stinco di santo ci potrebbe sì sì potrebbe questi soldi o altre attività potrebbero essere riconducibili a attività non diciamo non legali è più o meno un po' lo stesso meccanismo che si è ripetuto in altri casi soprattutto anche qui in Musello io ora lo dico diciamo per quanto riguarda una situazione completamente diversa naturalmente quindi però il pensiero di dire dato che questo soggetto fa parte di una famiglia sbandata il soggetto è un soggetto rubacchiato non rubacchiato allora gli possiamo affidare o pensare che non sia capace di fare determinate cose ora io nello specifico mi riferisco è tutto un caso se mi permetti tutto un caso differente al diciamo al problema del forteto nel quale la problematica del forteto c'è stato proprio anche da parte di parte di inquirenti che è stato portato via bambino a una famiglia la quale famiglia non era anch'essa diciamo così non era l'ultimo diciamo aveva dei problemi ecco aveva dei problemi e per questo comunque non è stata difesa nello stesso modo con cui sarebbe stata difesa un'altra famiglia con un passato più specchiato cioè è proprio il pensiero, il meccanismo e dire vabbè tu rubi, tu sei ignorante forse quei soldi potrebbero essere derivanti da non so se lo stesso pensiero possiamo ad applicarlo che so a un colletto bianco o applicarlo ad altri quindi è probabile che anche questo tipo di ragionamento possa essere stato utilizzato dagli stessi inquirenti sotto determinate a seconda dell'identità del mostro beh sì diciamo o secondo anche il passato del soggetto perché si è preso un Pacciani e che ne so non si è preso qualche altro più o meno similare Pacciani viene fuori secondo me da un'indagine giusta quindi abitante del Mugello è pregiudicato perché ha ucciso un uomo è violento quindi abitava in Mugello poi si è trasferito nelle parti di Montesperto che poi è San Casciano quindi da un punto di vista geografico ci stava però insomma l'età c'era aveva avuto due infarti quindi doveva essere vagliato gli elementi che io quando vedevo il processo Pacciani era convinto fosse lui sono stati proprio gli elementi portati poi dall'accusa e determinate mi permetto di dire forzature non dell'accusa ma poi che si sono verificate dopo faccio un esempio all'avvocato del Pacciani e al quotidiano La Nazione tre mesi prima cioè Pacciani era ancora in carcere per le figlie tre mesi prima della maxiperquisizione ricordate tutti l'orto del Pacciani arriva un'anonima dice occhio agli avvocati che troverete qualcosa nell'orto del Pacciani maxiperquisizione esce fuori un bossolo che non può dare un'identità perché non era stato sparato chi era questo che ha mandato l'anonimo cioè paradossalmente sono situazioni che sono più quelle che hanno fatto dubitare piuttosto ma anche anche lo stesso lo stesso Lotti quando mi fa delle dichiarazioni a processo tipo quelle che citavo prima o tipo altre sul delitto dell'82 o su quello di Scopeti dove era a buio pesto e lui descrive addirittura i dettagli dell'arma o dice un giorno a posto di un altro cioè comincia un attimino a doveva essere comandato in te di dire cioè Lotti se leggete il libro c'è quello che racconta e quello che è poi l'oggettività dei fatti è veramente palesemente mente palesemente proprio mente la macchina in avanti i bacciani con tutta la comodità scende con la non curanza tranquilla c'è quello dell'82 di Baccaiano dove che ancora addirittura lì passano cinque testimoni e nessuno ha visto nulla quindi che quest'auto le auto del Pacciani non c'erano quindi ci sono proprio testimonianze che lo smentiscono testimonianze messe in evidenza dagli avvocati difensori dell'epoca beatamente ignorate dal presidente non dal PG perché la PG le prese in considerazione poi la storia si sa la fanno i vincitori e quindi non c'è una testimonianza dell'epoca non c'è una testimonianza dell'epoca che va a connotare i bacciani sulla scena del crimine quindi sono tutte testimonianze quella del Nesi quella poi dell'Otti a distanza di 10-15 anni quando già il Pacciani apparve sui giornali era in televisione eccetera eccetera quindi io mi astengo da valutazioni giuridiche di cui non ne ho competenza però metto in evidenza le incongruenze si infatti allora questo è corretto cioè nel senso non è che stiamo facendo un processo a nessuno stiamo semplicemente ripercorrendo grazie all'autore che appunto ha fatto un'analisi critica di quello che è stato ponendo casomai mettendo in evidenza una serie di incongruenze di dubbi e di possibili poi ognuno si farà si darà la sua risposta eventualmente forse leggendo il libro e vedendo il documentario probabilmente sarà ancora più chiara quantomeno sono dati constatabili e veritieri quelli che ho fornito io no? e soprattutto freddi nel senso che sono recuperati appunto da dai dati dagli atti giudiziari e quant'altro beh non lo so se c'è qualcun altro che vuole prego alla luce dei fatti del fortedo ripeto ci possono essere dei collegamenti ulteriori con il mosso di Firenze? il fortedo è vicino a livello geografico di più non posso non mi sento di dire niente che è di fronte al delitto della boschetta si diciamo forse la domanda nasce anche dal fatto che comunque le notizie di stampa davano queste ipotesi però queste associazioni però per cui rimane non ho mai pensato che i delitti sono stati fatti tutti sul percorso diciamo della provinciale di là dal fiume Sieve tra Vicchio tra quello di Vicchio quello di Borgo San Lorenzo e poi il proiettile vabbè quello centrale relativamente ma comunque fatto a San Piero non è stato fatto indagini iposesiche su persone che potevano avere anche case di campagna in quel periodo lungo quel tragitto che non fossero residenti perché personalmente penso che i pacciani proprio l'hanno preso come il capo respiratorio ma non era lui ma fin dall'inizio ma che comunque fossero state altre persone che villeggianti o residenze case di residenza estiva luoghi di lavoro anche luoghi di lavoro però io penso più per conoscere il territorio soprattutto la parte di là dal fiume Sieve fossero state secondo me persone che magari avevano modo di essere cresciuti anche in quella zona o anche in periodi più recenti ai delitti allora io sono perfettamente d'accordo con la signora tranne il plurale persone io direi persona no l'indagine su più persone che potevano avere recapiti perché lì toccate il fuoco faceva il diritto e poi non si sapeva più niente perché poi anche i carabinieri stessi hanno fatto delle indagini sommarie diciamo per l'epoca anche nell'84 quando successi della 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 concordo e quindi che ci fosse anche probabilmente la possibilità o il dubb che qualcuno fosse stato preso di mira ma persona troppo fuori dall'ambiente contadino come si sta specificando ma persona sulla quale non era neanche possibile immaginare una cosa del genere io credo che queste cose l'abbiano molto sottovalutate gli inquirenti esattamente quello che che volevo dire e che scrivo è questo a parte questo discorso della sia comunque il Pacciani aveva abitato lungo tempo lì davanti alla boschetta lì circa la casa sua era lì e poi vorrei dire una cosa riguardo al Pacciani io per molto tempo ho pensato che fosse lui e così via poi a parte discorsi dell'infarto quindi eventuale non capacità fisica proprio in senso di forma però il Pacciani non è quel contadino che si vuol far credere così che non sa parlare se qualcuno ha ascoltato attentamente la sua autodifesa era perfetta era perfetta cioè lui diceva tor nonno andonno ma nel Mugello la gente che ha più di 60 anni lo dicono tutti però non ha sbagliato una consecutio temporum assolutamente congiuntivi e condizionali erano tutti perfetti ecco quindi era meno l'ignorantone c'è contadini ignoranti eccetera no ma non è una questione di ignoranza o di cultura io è una questione quindi anche di capacità cioè di pensarle le cose infatti se quello fosse il contadino poi magari era l'ubriacone guardi io le posso dare le posso consegnare un dato che Pacciani si 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 Pacciani non c'è un elemento che lo esclude un elemento tecnico fattuale però le posso dire questo che Pacciani quando fece il delitto del 51 la mattina dopo l'hanno belle preso perché ha confessato si è ubriacato ha parlato quindi questo non è un elemento di rimente però bisogna anche partire dal concetto che non è che si deve prendere una persona adesso mi devi sconfessare che tu sei il colpevole vale il procedimento inverso quindi certo certo quindi ecco io parto da questo presupposto beh adesso non entriamo troppo era tutto era tutto un altro sistema c'era il delitto d'onore addirittura non so se allora se c'è qualche altra domanda prego la testimonianza che fece Fosco Fabri di quel episodio dove fu fermato da uno in divisa che non serve riconoscere come la giudica la testimonianza può essere veritiera oppure allora testimonianza di Fosco Fosco Fabri era una persona che rilasciò una dichiarazione lo dico per gli altri che disse di essere stato fermato da una persona indivisa che lo minacciava questo è quello che poi ci racconta Filasto è vero perché c'è agli atti quindi questa dichiarazione c'è quindi ti rispondo affermativamente e su discorso Spalletti 81 vedremo più oltre perché io sto facendo un lavoro che uscirà dopo l'estate quindi sto mettendo un po' di carte insieme per mi riservo ancora un po' di tempo bene sì prego lei ha letto le carte io per quello chiaramente mi sono potuto documentare seguendo il caso su internet facendo chiaramente le due verifiche perché tante notizie sono anche diciamo gonfiate o inventate se chiaramente può rispondere risulta dalle carte visto che parliamo del Mugello delitto 74 delitto 84 se non mi sbaglio anche l'81 a Travalle tra l'atrosi non tanto distante diciamo dalla zona del Mugello dove è stato trovato il libretto di circolazione sul cruscotto della macchina che in caso di appartarsi con la propria compagna o sembra assurdo tenere il libretto sul cruscotto nel caso della boschetta addirittura io ho letto sembrerebbe che ci sia il portafoglio di lui passato da parte a parte da un proiettile cosa che se uno è in intimità è assurda per un portafoglio umano quando pantaloni erano in tutta altra zona diciamo della macchina volevo solo sapere visto che mi riallaccio al fatto che c'era un'ipotesi di un soggetto che si potesse avvicinare alle macchine in qualche modo senza dare un pericolo un segno di pericolo ma addirittura probabilmente approcciava le macchine rassicurando per poi probabilmente fare quello allora questa è l'ipotesi dell'avvocato filastò del poliziotto rispondo no non c'è riscontro perché il portafoglio dello Stefanacci era ripiegato nei pantaloni tasca posteriore ripiegato dietro al sedile posteriore quindi era un colpo a vuoto che è andato a bucare sia il pantalone sia il sedile delle vecchie panda e sia il portafoglio quindi nessun portafoglio in mano e l'altro dato è del libretto di circolazione bisogna vedere come venivano fatti i rilevamenti e da quello che vedo nelle fotografie dove vedo impronte digitali sulla macchina non rilevate e dall'approssimazione dei rilevamenti relativi alle repertazioni degli oggetti ti posso dire che è molto probabile che sia stato preso tutto ad esempio il delitto del 68 noi troviamo un documento nella borsetta della Locci dello Bianco quindi veniva fatto e questo io me lo ritrovo anche in altri casi di quegli anni là non veniva fatto una repertazione si vede anche dalle foto il delitto di Calenzano c'è la valigetta della scientifica con le impronte digitali sulla macchina dei cadaveri quindi tutto un pesticcio di persone quindi sono quei dati pending che può essere così ma può anche essere colà questa storia purtroppo è caratterizzata da molti di questi episodi però l'episodio la teoria del poliziotto io non sono assolutamente d'accordo perché è qualcosa di estremamente visibile e lampeggiato cioè siamo un po' nel romanzo lì quindi altre persone se ci sono altre domande se no ci possiamo avviare se ci sono altre domande verso la chiusura innanzitutto vi ringraziamo aver partecipato così numerosi speriamo anche di poter ripetere poi eventualmente anche per la prossima opera e quindi casomai approfondire ulteriormente ulteriori aspetti naturalmente è implicito in questo caso il consiglio poi di acquistare il libro e il dvd mi sembra per chi vuole comunque naturalmente e niente possiamo salutare quindi vi ringraziamo tutti della partecipazione quindi Radio Radicale rimanderà in onda tutto quanto sarà sul sito l'integrale o Camusiello prenderà da Radio Radicale per questioni tecniche che è andato in onda però comunque speriamo ora nelle prossime settimane di poter o comunque nei prossimi mesi di fare altre iniziative con autori di livello che ci permettono di capire meglio un po' quello che è successo anche nel nostro territorio grazie Paolo Cocchi grazie cari grazie a tutti grazie a tutti